Mauro sai che ogni tanto ti faccio vedere le sorprese. Sorpresone proprio. Oggi sono andato in supermercato e ho visto questa offerta a cui non potevo rifiutare. Già hai sbagliato perché dice alla gente di andare in supermercato a prendere il vino, quindi già camminiamo. Allora sono andato in supermercato perché ho visto che vendevano questo vino a un euro e mezzo e ho detto ma voglio sapere da Mauro cosa ne pensa di un vino da un euro e mezzo. Potrei prenderne di più. No si scherza, allora in effetti ho speso veramente un euro e mezzo. È un vino rosso, ho provato a cercare informazioni a proposito di questo vino e non ho trovato assolutamente nulla. L'unica cosa che sono riuscito a ricostruire è che è stato imbottigliato nella zona di Varcelli. Dieci gradi e mezzo, cosa ti aspetti? Non rispondere, non importa. Magari è una sorpresa. Sì, sorpresone. Di che materiale è fatto? Non è di sughero, ovviamente quando un vino costa così poco vuol dire che tutti i materiali iniziando dalla bottiglia, dal tappo eccetera eccetera sono ridotti all'osso. ma non lo so. Ma guarda che bel colore. La prima domanda che vorrei farti è ma con che uva sarà fatta? Io non ne ho più palla idea. Ma sarà fatto con l'uva? Allora il colore è piuttosto il fila. Vai vai vai, parti dal colore, parti dal colore. Il colore è piuttosto scarico, però insomma ci sono vini eccellenti che sono scarichi di colore. Eh ragazzi non è facile, no veramente non è facile. Allora io lo assaggiamo. Non ci sono parole. Al naso non risulta proprio cattivante. No, no direi direi proprio di no. È invitante pari a zero potrei dire. Adesso veramente io mi scuso con l'azienda, forse è una bottiglia andata male, però stiamo parlando di un vino da un euro e mezzo, è evidente insomma che la qualità è scarsa. Hai assaggiato? No. Vabbè io vado eh. Mi fido di te. Vabbè abbiamo concluso questo video, adesso al di là di questo tu assaggialo, non serve che mi commenti, so già cosa ne pensi, bere vini di questo tipo io lo trovo senza senso. Ha un sentore chiusissimo, sono odori che non riconducono a qualche difetto specifico, non quelli noti se non a un vino che può aver preso sicuramente caldo e può essere stato maltrattato. Questa è l'unica cosa che mi viene a dire. Non faccio associazioni con la tipologia di profumi o di odori. L'hai assaggiato alla fine? No. Non ancora. Dai assaggialo. Cioè gli manca veramente tutto, gli manca corpo, gli manca acidità. È un vino che non comprerei. No vabbè ok, ovviamente è un po' un esperimento, ovviamente ci aspettavamo pochissimo. No, possiamo dire che questo vino vale un euro e mezzo? Ma sai, io non la metterei sul valore del vino. Il mio problema è proprio che non riesco ad affrontare un vino che ha questi odori qua. Non riesco a capire appunto la destinazione di un vino del genere. Bene, vi saluto, alla prossima, la prossima volta spendo un po' di più. Va bene.